strage in galleria procura il lavoro per accertare le responsabilità verso l'anno nuovo matteo ricci fra cantieri pesero capitale e elezioni dalle infrastrutture alle riforme il 2023 che si chiude secondo acquaroli valle foglia chiude un anno di grande espansione di servizi da monte felcino a piobbi con la magia dei presepi una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ritrovati allo spazio informativo serale di rossini news telegiornale di venerdì 29 dicembre che apriamo con gli ultimi aggiornamenti relativi all'incidente mortale avvenuto mercoledì scorso nella galleria cagulino fra urbino e fermignano la procura di urbino ha infatti aperto un fascicolo per accertare cause e responsabilità nel sinistro in cui hanno perso la vita le quattro persone all'interno dell'ambulanza dell'apotesi di fossombrone scontratasi con il pullman la polizia stradale ha completato i rilievi l'acquisizione delle testimonianze consegnando la documentazione alla procura che ora assegnerà l'incarico per effettuare l'autopsia sui corpi e definire la dinamica dell'incidente diverse le ipotesi dal malore del conducente all'invasione di corsia che ha generato lo schianto frontale e poi l'incendio per lo scopo delle bombole d'ossigeno in dotazione all'ambulanza che a quanto si apprende era stata revisionata appena una settimana fa intanto l'incendio ha procurato danni ingenti alla galleria che resta chiusa a tempo indeterminato urbino e ferminiano resteranno collegate nel percorso del vecchio tracciato della statale tempo di bilancio di fine anno per il sindaco di pesero matteo ricci che oggi ha fatto il punto sul 2023 che si chiude è un anno capitale alle porte in piazzetta mosca fra i tavoli della casetta vaccai mostrando il calendario di pesero capitale della cultura 2024 linea di demarcazione fra un anno di grandi preparativi che si chiude e un anno di celebrazioni e progetti da mettere a terra riflessioni e bilanci che il sindaco matteo ricci mette sul piatto nella consueta conferenza stampa di fine anno alle spalle abbiamo avuto un grande lavoro è stato un anno molto produttivo abbiamo lavorato tantissimi in preparazione della capitale della cultura abbiamo lavorato tanto sulle opere pubbliche sulla progettazione per il pnr e abbiamo mantenuto un bilancio molto sano e con un occhio particolare con una valenza particolare rispetto ai temi della solidarietà che abbiamo continuato ad investire sul sociale sui servizi educativi sulla cultura senza aumentare le tasse e con un indebitamento bassissimo quindi siamo molto soddisfatti di come è andato il 2023 anche per il grande gioco di squadra che insieme alla giunta la maggioranza abbiamo messo in campo non ci sono divisioni non ci sono conflitti c'è grande sintonia armonia tra di noi e così ovviamente si lavora meglio a servizio della città ad entrare nell'anno capitale e anche una pesaro città cantiere per fortuna abbiamo attratto tantissimi milioni di euro di investimenti pubblici e tanti cantieri stanno partendo e ovviamente questo crea anche qualche disagio però la città sarà una città cantiere in trasformazione ma tanti cantieri anche quelli che ci hanno fatto maggiormente faticare arriveranno a termine in particolar modo inaugureremo il 29 di febbraio l'auditorium scavolini il vecchio palasport e il entro la fine di marzo inaugureremo complessivamente l'interquartieri di muraglia interquartieri sud che diventerà strada berlinguer e già la prima settimana di gennaio avrà aperto il primo tratto tra la celletta e la baratov premesse importanti per un anno da capitale della cultura che ricci vorrebbe diventi opportunità unica per tutti i cittadini auguro un 2024 gioioso a tutta la provincia di piso urbino auguro a tutti di viverlo in questa maniera perché questa capitale può essere un'occasione per valorizzare quello che siamo innanzitutto e per dimostrare che le cose più belle nel nostro paese non sono per forza nelle grandi città ma possono vivere in realtà di provincia come la nostra quindi mi auguro che tutti possano vivere con gioia questo 2024 e anche con grande determinazione perché se ognuno di noi farà la propria parte appunto i benefici li avremo per tanti anni in particolar modo per le nuove generazioni e fra le riflessioni di Matteo Ricci nella conferenza di fine anno non poteva mancare anche uno sguardo alla politica verso le elezioni amministrative fino al proprio futuro personale di Matteo Ricci si entra nel 2024 e si entra anche negli ultimi cinque mesi e mezzo di amministrazione di Matteo Ricci nel suo decimo anno da sindaco di pesero un tema quello del futuro politico di Ricci entrato nella conferenza stampa di fine anno anche alla luce del fatto che esiste una possibilità di terzo mandato al vaglio di valutazioni ministeriali che potrebbero concretizzarsi nel mese di gennaio probabili per i comuni fino a 15 mila abitanti un po meno per le città dalla demografia superiore nella conferenza stampa di fine anno Ricci glissa su una possibilità di terzo mandato non ragionabile alla luce del fatto che ancora non esiste ma piuttosto si concentra su un futuro praticabile nella sfera politica nazionale ma ho già dato la mia disponibilità pubblicamente a al mio partito alla segretaria del mio partito alla candidatura all'europea vedremo stare a lei decidere di certo come dico spesso e come credo sanno tutti mi piacerebbe continuare a fare politica nazionale la si può fare in tanti modi anche senza ruolo istituzionale però ecco dato la mia disponibilità alla segretaria per le elezioni europee pur sapendo che per un marchigiano è una sfida al limite del possibile perché ovviamente siamo in un collegio Marche, Umbria, Toscana e Lazio dove i candidati del Lazio e della Toscana hanno molte più possibilità di essere eletti perché hanno 4-5 volte la popolazione dell'intera regione Marche. Sul tema del futuro sindaco di Pesero Ricci guarda con fiducia al lavoro del centro-sinistra non mancando di ironizzare sugli avversari. Stanno sfogliando l'elenco telefonico per cercare un candidato esterno che non trovano è la dimostrazione che si rendono conto credo anche di una certa debolezza nel gruppo dirigente locale quindi vanno alla ricerca di personalità esterne per fortuna non è un problema che abbiamo noi abbiamo costruito un percorso molto partecipato all'interno del partito e con gli alleati per scegliere il candidato più forte e per fortuna al centro-sinistra e all'alleanza civica insieme anche al Movimento 5 Stelle non mancano le persone da candidare a sindaco. Conferenza di fine anno anche per il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli in un appuntamento che per il secondo mese di dicembre come nel 2022 è stato organizzato dall'ordine dei giornalisti delle Marche. Vediamo a tal proposito l'intervista al governatore Francesco Acquaroli sul 2023 della regione che va in archivio. È un anno importante dove tanti progetti hanno preso corpo e tanti obiettivi sono in via di raggiungimento. Penso alle infrastrutture, penso alla programmazione europea a cui avevamo lavorato nei due anni precedenti e quest'anno è partita con oltre mezzo miliardo di bandi erogati. Penso alle potenzialità che abbiamo messo nel cercare di velocizzare la ricostruzione e le risposte avvenute per l'alluvione del 2022 e tante altre sfide. Penso all'aeroporto, la continuità territoriale, penso all'interporto, penso a quelle che sono state anche i numeri del turismo che denotano sicuramente una tenuta e soprattutto un incremento del turismo straniero e poi non posso non guardare a quelli che sono i dati sull'occupazione che determinano un elemento positivo, concreto su cui basare anche le politiche del futuro. Io credo che la prospettiva è quella di continuare su questa deriva, cioè quella di dare pieno compimento alle riforme che abbiamo approvato, la riforma delle aziende sanitarie seguita poi dalla riforma del piano soggio sanitario che si dovrà concretizzare con gli atti aziendali che sono l'ultimo passo per far sì che il lavoro svolto produca gli effetti sperati sulle liste d'attesa, sul potenziamento della sanità del territorio, sull'erogazione dei servizi costruita sul fabbisogno. E poi dall'altra parte la legge del governo del territorio l'abbiamo approvata, abbiamo detto che la revisioneremo nel momento in cui andremo ad approvare il piano basaggistico, tutti leggi ed atti che erano attesi da decenni nella nostra regione come le risposte penso alla Galleria della Winza, alla Salaria, alla Pade Montana, sulle infrastrutture che erano attese da anni, l'ultimo miglio ad Ancona, sono risposte concrete a ritardi decennali. Ed è tempo di riflessioni di fine anno anche per il comune di Vallefoglia al termine di un 2023 di grande espansione di servizi in una crescita che proseguirà anche nell'anno nuovo come ci testimonia il sindaco Palmiro Ucchielli. Sì, raccontare il 2023 non è proprio facile perché le cose che abbiamo fatto sono talmente tante, difficilmente raccontabili in pochi minuti e le quattro più significative sono stata la depurazione dell'asta fluviale con il raddoppio del depuratore a Montecchio per tutti i comuni confinanti, il secondo è il nuovo municipio e poi la piazza, una piazza molto grande in funzione anche delle scuole, in funzione della casa della salute, della palestra, tutti i servizi che sono qua, qui quando uno viene qui c'è tutto. E poi la ciliegina diciamo che un fiore all'occhiello è il teatro Giovanni Santi dopo aver messo a nuovo il teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzo, quindi Vallefoglia che non aveva teatri passa a due teatri, il teatro delle colline, Ginestritto, Montecicardo, Sant'Angelo in Lizzo, Giovanni Branca, il teatro Giovanni Santi, sempre Giovanni, a Bottega di Vallefoglia e lì si aprirà anche la settimana italiana della cultura, dal 22 al 28 presenteremo insieme al Comune di Pesaro, questa settimana con spettacoli, stative musicali, teatrali e un auditorio per la musica, al cinema, teatro, veramente interessante. E poi diciamo la metanizzazione, gli asfalti, le scuole messe a nuovo, insomma abbiamo fatto di tutto e di più, tant'è che io riassumo che chi viene dopo di noi non ha quasi niente da fare, abbiamo fatto quasi tutto, però abbiamo anche programmato le cose future perché poi insomma per esempio pensiamo che bisogna potenziare la casa della salute, pensiamo che bisogna migliorare la mobilità e i trasporti, pensiamo che bisogna costruire un polo per l'agroalimentare, per i prodotti tipici di queste località ed avere un luogo anche per la formazione professionale di giovani manager per la competizione internazionale, pensiamo ad un raddoppio della piscina a Pian del Busco, quelli critici quando io ho iniziato a fare vita politica, dicevano che era una cattedrale nel deserto voluta da Ucchielli, era talmente cattedrale che bisogna raddoppiarla oggi perché qui ci sono più di 50 mila abitanti, abbiamo previsto un campo per il calcio regolare per giocare in Serie A, chissà mai, non si sa, potremmo giocare e competere e anche andare in Serie A dato che abbiamo una squadra di pallavolo che gioca in Serie A, anzi abbiamo previsto un finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro per portare il palazzetto dello sport a 10 metri e 1500 posti non solo per fare i campionati italiani ma addirittura per fare i campionati europei. Abbiamo circa 20 chilometri ciclopedonali, altri 5 chilometri in corso e diciamo che è una realtà in fortissima crescita. Si apre una nuova fase per il servizio di polizia locale di Cartoceto, lo annuncia il sindaco Enrico Rossi che dal nuovo anno potrà contare su un potenziamento rilevante del personale e su ingenti investimenti relativi alle dotazioni strumentali e tecnologiche. A partire dal 1 gennaio si potrà infatti contare in modo strutturale su 5 agenti di cui il territorio di Cartoceto non ha mai disposto, agenti che garantiranno quotidianamente la presenza di una pattuglia nei diversi turni. Grazie a un bando regionale aggiudicato la videosorveglianza si implementerà di telecamere ambientali, sistemi di lettura targhe, fototrappole, un etilometro e un telelaser. Nel 2024 saranno anche aggiudicati per un milione di euro i lavori di realizzazione del nuovo centro civico nel quale troverà spazio anche la sede destinata alla polizia locale. Nuova vita per l'hotel Vienna di Piazzale d'Annunzio a Pesaro. L'albergo risalente agli anni 50 dopo un lungo periodo di abbandono torna a splendere sotto forma di condotel diretto da Andrea Bianchi. Lo farà miscelando la formula dell'albergo a quella degli appartamenti con 11 suite turistiche e una locale birreria. Mercoledì 3 gennaio alle 21 la Cattedrale di Pesaro ospiterà ad ingresso libero il concerto di Natale, evento musicale che era stato rinviato lo scorso 22 dicembre. Promosso in collaborazione con l'Arcidiocese di Pesaro il concerto vedrà il coro filarmonico Rossini esibirsi in un suggestivo repertorio di musiche sacre dei più importanti autori del 700 e dell'800 italiani e europei. Le polifonie del coro si affiancheranno alla sublime voce del soprano So Yun Lee e alle note del prestigioso organo a cane della Cattedrale suonato da Lorenzo Antinori, il tutto sotto la direzione del maestro Federico Raffaelli. Siamo a fine dicembre alle porte di gennaio ed è tempo di presepi. Nel prossimo servizio andiamo a scoprirne uno molto particolare che viene allestito a Monteguiduccio nelle comune di Montefelcino. In tutta la provincia di Pesaro Urbino si moltiplicano presepi e alcuni di questi sono davvero unici nel loro genere. È il caso di Monteguiduccio, frazione di Montefelcino, che da anni ospita il presepe di Gio. Gio come Giorgia Righi, ragazza di Petriano, la cui storia di tenace superamento dei limiti è divenuta prima il libro Vivere Volando e poi il film Ancora Volano le Farfalle. Prima ancora però gli zii di Giorgia hanno creato un presepe enorme senza barriere architettoniche che cambia ogni anno attraverso statuine realizzate in casa e percorsi narrativi che si rinnovano occupando spazi di una rimessa superiori ai 30 metri quadrati. Io e il mio compagno Massimo da una decina di anni abbiamo iniziato quindi a costruire questo presepe che prima era di sopra nella stanza nel salone di mia mamma, poi piano piano con gli anni ci siamo allargati, siamo venuti qua di sotto e qui sono due anni che costruiamo il presepe e siamo partiti quindi dalla Genesi e siamo arrivati alla risurrezione di Gesù. Questo presepe è stato costruito quindi interamente a mano, fatto tutto di cortecce e muschio, tutti i materiali che abbiamo riciclato qua in casa e abbiamo cercato quindi di acquistare il meno possibile, solo i meccanismi e poi tutte le altre cose insomma ci siamo adattati con quello che trovevamo qua in casa. Le statue sono state fatte da Raimondo, Mario Raimondi che è un ceramista di Palermo e quindi sono state fatte tutti su misura, io praticamente ordinavo i personaggi perché non esiste niente di simile in commercio e poi lui mi realizzava queste statue ed ha lavorato diciamo un anno per costruire tutte le statue di questo presepe. È gestito da una centralina quindi abbiamo un percorso guidato, parte una rannazione e vediamo a mano a mano tutti i movimenti che partono dalla Genesi con tutti i vari effetti speciali che ci sono durante il giorno, la notte, arriverà la storia della cometa e poi mano a mano fino ad arrivare alla risurrezione. La mia parte preferita è quella tipica del presepe, quindi l'attività, tutte le professioni di una volta dalla lavandaia al contadino al commerciante e soprattutto l'atmosfera di questo periodo del presepe mi piace tantissimo, con le luci di notte, la musica soppusa e anche l'alba, il tramonto, i suoni delle campane sono eccezionali. Un presepe spettacolare che si apre alle visite al pubblico. Il percorso di questo presepe dura circa un'ora, percorso guidato, bisogna assolutamente prenotare, quindi chiamarmi un numero, io sono disponibilissima come orario, quindi dal mattino al dopo cena, l'importante è prenotarsi perché è dedicato un numero ristretto di persone ed è una visita a cui dedicarsi per un'oretta. E dal presepe di Gio di Monte Guiduccio all'appuntamento col presepe vivente di Piobbico per il prossimo 5 gennaio. Questa edizione, questa appunto la 27esima, si svolgerà nel centro storico del paese, fin su arrivando al castello Brancaloni, passando per il borgo medievale e porta con sé delle novità, delle novità che sono tre a grandi linee, che uno è l'orario, abbiamo scelto di un orario serale, proprio per far godere al meglio il borgo in un momento serale, quindi anche a livello di illuminazione molto più suggestivo. Un'altra novità è il percorso vincolato, perché ci sarà un'unica entrata e un'unica uscita, in modo tale che chi ci verrà a far visita potrà quindi visitare tutti i 30 quadri, tutte le 30 ambientazioni che andremo appunto ad allestire. L'altra novità è una maggior valorizzazione del castello Brancaloni, in quanto proprio nella parte inferiore del castello abbiamo allestito molti più quadri, molte più stanze proprio per unire sia l'evento, quindi la visita dell'evento con più scene, ma anche dare la possibilità di visitare al meglio quello che è un po' il nostro simbolo, sia il castello Brancalioni. È stata un'iniziativa che è stata presa inizialmente tramite le scuole, grazie anche a un gruppo di cittadini che si sono impegnati creando un'associazione e hanno portato avanti questo presepe. Poi noi da quattro anni e mezzo, da quanto siamo entrati come amministratori, abbiamo impreso in mano la manifestazione, quindi cerchiamo in tutte le maniere di farla crescere e di farla sempre migliore. Piobbico fa parte del itinerario della bellezza, è uno dei 24 comuni che anche quest'anno, anzi l'anno prossimo, 2024, partecipano a questo nostro progetto di grande successo. È una realtà veramente straordinaria perché al di là del palazzo Brancalioni, quindi di tutto il centro storico, che è di una bellezza unica nel contesto provinciale, c'è tutta l'offerta legata al Monte Nerone, quindi alle attività outdoor, al trekking, un ambiente incontaminato, straordinario. Noi realizzeremo alcuni itinerari nuovi che riguardano la gastronomia e quindi Piobbico ha una parte importante con la polenta di Piobbico e i funghi. E poi nell'itinerario del silenzio della fede, perché Piobbico peraltro ha diverse chiese molto belle e importanti e soprattutto c'è il santuario di Santa Maria e Valdabisso, che merita una visibilità maggiore di quella che non ha. Il turismo comincia dal primo di gennaio e finisce dal 31 di dicembre. Quindi tutte le attività che si svolgono fuori dal canonico periodo estivo sono per noi una mano santa per fare quel turismo destagionalizzato che serve necessariamente a tutte le imprese e al mondo economico della provincia. In questi ultimi giorni dell'anno lo sport non va in vacanza. Il caso dell'Ital Service Pesaro di Calcio 5, che questa sera alle 20.30 saluterà il pubblico amico del Palamegavox nel congedo di fine 2023 contro la neopromossa Viterbo. 2023 che si chiude invece con una trasferta complicatissima per la VL, che domani alle 21 vedrà la sua palla 2 a Bologna contro la Virtus. E si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News. Vi ricordiamo però la nostra prima serata che in questo venerdì alle 21.20 è dedicata al nostro speciale realizzato a Monbaroccio che ha visto riaprirsi al pubblico lo storico Palazzo del Monte. Vedremo tutto nello speciale realizzato da Paolo Pagnini questa sera alle 21.20. E poi domani l'ultima rassegna stampa del 2023, l'ultima edizione di Buongiorno Rossini, quella del 30 di dicembre, di sabato 30 dicembre, che per l'occasione sarà condotta dal nostro Antonio Stuti, come sempre in diretta a partire dalle 7.20. E invece si conclude qui questa edizione di Rossini News, ma si conclude anche un anno di informazione per il nostro notiziario che, ve lo ricordiamo, tornerà il 2 gennaio 2024. Dunque un saluto a tutti i telespettatori, un augurio di un felice anno nuovo. Ci rivediamo nel 2 gennaio 2024. Grazie, come sempre, per averci seguito. Una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Rossini TV.